importante. Bea arriva a casa del suo amico Giorgio. Sei pronto! È la più importante partita di calcio della... e abbiamo i biglietti! Bea, non posso venire con te. Cosa? Devo studiare. Ho un esame molto importante domani. Lo devo superare se voglio studiare medicina. Mi dispiace. Bea mette il suo cappotto su una sedia. Va bene. Hai del caffè? Perché? Perché non voglio essere stanca. Possiamo studiare insieme. Ma... Tu mi aiuti spesso. Ora anche io ti voglio aiutare. Ma è la più importante partita di calcio dell'anno. Tu sei più importante di una partita. E devi superare... E quando sarai un dottore? Comprerai i biglietti per un'altra partita import... Certo, Bea. Allora, dov'è il caffè? Importante. Spesso. Calcio. Esatto.